ciao a tutti e benvenuti nel canale youtube videocorso online di Cubase in questo video utilizzeremo la versione Cubase Pro 10.5 e andremo a vedere come funziona la barra degli strumenti quindi lanciamo il nostro programma, attendiamo che si apra ecco quando si sarà aperto il programma selezioniamo un progetto vuoto giusto per fare una prova quindi clicchiamo su creazione, selezioniamo la cartella, qui ho messo una cartella per fare delle prove quindi selezioniamo la cartella e mi si apre appunto il nostro Cubase a questo punto creiamo un attimo per fare una prova una traccia MIDI come nome la possiamo chiamare prova appunto aggiungiamo la traccia MIDI col nome prova e creiamo una parte appunto una parte MIDI che si chiama prova allora la barra degli strumenti che cos'è? la barra degli strumenti la trovate qui in alto diciamo vedete tutta questa parte qui praticamente questa è tutta la barra degli strumenti e compare anche cliccando con il tasto destro in qualsiasi punto praticamente della colonna delle parti diciamo dove ci sono le parti audio, parti MIDI registrate o elaborate quindi cliccando col tasto destro compare praticamente la nostra barra degli strumenti che come potete vedere ha le stesse funzionalità se voi guardate che si trovano qua sopra cioè sono esattamente le stesse quindi le posso selezionare o da qua oppure direttamente con il tasto destro che è molto più comodo e andare a utilizzare appunto le varie funzionalità della barra degli strumenti allora la barra degli strumenti diciamo che di default è selezionata la freccetta e questa come potete vedere c'è scritto seleziona oggetto ok o ridimensionamento quindi con questa possiamo selezionare appunto un oggetto cliccando fuori vedete che la parte è diventata grigio chiaro se noi la selezioniamo diventa di colore scuro quindi tutto ciò che è selezionato di colore scuro è selezionato quindi questa parte qui è selezionata quindi vuol dire che il Cubase sa che noi stiamo lavorando su questa parte se noi creiamo per esempio un'altra traccia MIDI lasciamo così senza nessun nome andiamo a creare un'altra parte qui come potete vedere con la selezione posso selezionare questa parte o questa parte e l'altra funzione è la seconda che trovate qui è seleziona un intervallo quindi ho la possibilità diciamo così di selezionare come potete vedere un intervallo naturalmente adesso come potete vedere è selezionato in modo tale che ci sia la selezione a livello di battuta quindi se io parto da qua mi seleziona l'intera battuta e questo è molto utile appunto per selezionare proprio un intervallo diciamo vedete possiamo anche spostarci sopra e selezionare diciamo così tutto questo intervallo l'altra funzione è quella della matita quindi questa normalmente disegna qualcosa e se noi clicchiamo qui come potete vedere mi va a disegnare delle parti quindi questo è un altro modo diciamo per poter appunto disegnare delle parti naturalmente è preimpostato per creare una battuta per ogni parte quindi con la matita diciamo che si disegna appunto e c'è scritto disegna subito dopo abbiamo la gomma quindi è una gomma da cancellare appunto questa serve per cancellare le cose quindi se voglio cancellare questa parte dove mi trovo in questo momento clicco col tasto sinistro e la parte viene cancellata se voglio cancellare questa parte mi posiziono qua sopra e cancello la parte stessa cosa voglio cancellare per esempio tutto questo blocco perché quando è tutto unito viene cancellato l'intera parte clicco e viene cancellata altra funzione appunto nella barra degli strumenti ci sono le forbici quindi il simbolino delle forbici che serve appunto per separare per tagliare quindi come le forbici vere e proprie quindi se noi ci posizioniamo qui possiamo tagliare questa parte in modo tale che poi possiamo anche per esempio spostarla quindi selezionandola per esempio tenendo premuto col tasto sinistro del mouse io posso spostare questa parte vedete se mi sposto qui lui mi crea automaticamente una nuova traccia perché non essendoci una traccia diciamo midi creata lui automaticamente me la crea se me la sposto ancora più sotto mi creerà un'ulteriore traccia midi dopodiché abbiamo la colla quindi vedete che è il simbolino tipo di una colla che serve appunto per incollare cosa vuol dire? che noi possiamo unire quindi incollare per esempio questa parte con questa quindi se io clicco qui lui mi va ad incollare tutta questa parte se riclicco di nuovo mi incollerà anche questa ultima parte qua guardate avete visto? quindi questa parte qui è tutta incollata quindi cosa serve? questo serve praticamente per spostare una parte diciamo che magari era precedentemente non so tagliata in vari punti e io voglio spostarla tutta completamente per esempio la voglio tutta unire perché la voglio spostare in questa traccia qua sotto posso appunto spostarla in questo modo quindi incollando tutte le varie parti dopodiché abbiamo un'altra funzione che è quella di mute quindi serve per mutare quindi per silenziare diciamo così mettere in silenzio una parte se io vado appunto a cliccare sopra su questa parte praticamente la parte diventa di un colore grigio bianco diciamo sul bianchino e quindi questa parte qui è mutata nel momento in cui io andrò a fare partire appunto il mio brano in questa parte qui non verrà letta per di nuovo farla leggere devo ricliccare di nuovo con la funzione mute sopra e in questo caso diciamo che ritorna attiva la parte quindi non è più mutata quindi tasto X diciamo mute serve appunto per mutare le varie parti quindi se io voglio appunto fare in modo che non si sentano queste parti qua perché io voglio che si senta solo magari questa e questa le vado a mutare se le voglio di nuovo risentire ricliccherò sopra sempre con la X e di nuovo torneranno diciamo così ascoltabili e un'altra funzione è quella dello zoom per questo video ci fermiamo qui poi le altre funzioni le vedremo in un prossimo video lo zoom non è altro che la possibilità di ingrandire praticamente un certo punto una certa parte diciamo della nostra videata quindi la stessa cosa è possibile farlo diciamo con queste diciamo con questa barrettina qui se voi cliccate sul meno si rimpicciolisce la schermata se voi cliccate sul più si ingrandisce come potete vedere viene modificato proprio la schermata diciamo più grande o più piccola vedete io continuo a fare meno 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 ho la possibilità insomma di vedere un ampio raggio diciamo delle battute quindi mentre così vedo soltanto per esempio appunto le battute dalla 1 alla 4 se mi interessa vedere le battute più avanti posso appunto cliccare sul meno e diciamo ristringere la videata stessa cosa se io mi posiziono col mouse su questo pallino ho la possibilità spostandomi a destra o a sinistra di allargare o stringere le parti altra funzione stessa cosa qua sopra qui sulla destra la possibilità di allargare o restringere appunto le parti in altezza quindi in lunghezza questa è la possibilità appunto di allargare le parti o restringerle come potete vedere e questo invece serve per diciamo aumentare l'altezza appunto della mia videata naturalmente più vado in piccolo e più saranno piccoline come potete vedere bene per questo video è tutto perché le altre cose poi le vedremo in un prossimo video io vi ringrazio per averlo visto se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi naturalmente al canale per rimanere aggiornati sui prossimi video e se avete domande o commenti potete farli diciamo qui sotto nel video e vi ringrazio e come concludo sempre i miei video la cosa fondamentale al di là della tecnologia è sempre quella di utilizzare le proprie orecchie un saluto a tutti e al prossimo video grazie